Ben ritrovati a tutti e tutti a Villa 40, Valpolicella, siamo qui per la conclusione di Primforal Conference 2024 che è andata benissimo, ma non c'erano dubbi, vero Raffaele? Raccontaci qualche numero di questa conferenza. Allora, in realtà abbiamo iniziato con i numeri, abbiamo iniziato una conference con i numeri e abbiamo chiuso con dei numeri, i numeri che abbiamo raccontato alla fine sono quelli dei partecipanti, abbiamo avuto 26 relatori, più di 15 rappresentanti dalle associazioni di categoria, 50 delegati da tutto il mondo e ben oltre 300 partecipanti, che sono numeri veramente molto molto ampi, che confermano anche l'interesse sia verso il format, sia verso la Primforal come evento generale, diciamo. Che continua a crescere, la conference ovviamente, anche con i contenuti perché è stata veramente intensa, una conference molto ricca, abbiamo iniziato giusto con dati di mercato, con l'affrontare e anche i trend, con vedere un po' l'andamento del mercato proprio da un punto di vista dell'analisi, i saluti dei presidenti, quindi delle due associazioni che sono sostenitrici di Primforal Conference e anche appunto di Fiera Milano. Poi la giornata è proseguita con degli interventi, si è parlato di intelligenza artificiale, si è parlato di design, si è parlato di interazione, sempre in attica di filiera, dal punto di vista del dialogo tra i brand, i designer e gli stampatori. Che altro? Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo parlato di networking, abbiamo parlato di condivisione, di filiera, abbiamo parlato anche della necessità di iniziare a collaborare come un'entità unica e questa è una cosa che secondo me ci accompagnerà ancora per tanti mesi. Abbiamo parlato, come dicevo, tanto di sostenibilità, di supporti, di strati, è stata veramente molto densa in termini di contenuti. Assolutamente, poi si è parlato naturalmente di tecnologia perché c'è stato un intervento da parte di Pat McGrew sul post-Drupa, ma ci sono stati anche i lab da parte delle aziende sponsor che hanno deciso di allestire dei piccoli incontri all'interno di sale dedicate dove hanno proprio potuto approfondire i loro temi tecnologici. Quindi c'è stato un overview, diciamo, equilibrata direi, non troppo pesante. E' molto partecipata perché quelle tre sale erano sempre molto piene, abbiamo avuto tantissimi interessati, tantissime domande alla fine e devo dire che adesso andando via i nostri partecipanti ci hanno ringraziato, hanno tutti molto soddisfatti, tutti molto felici, diciamo che la cosa ci aiutava. Anche perché, diciamo, si è anche un po' mangiato bene qua, è bevuto bene qui in Valpolicella e del resto, diciamo che è un po' una garanzia. C'è stata un'accoglienza, una partecipazione di filiera che mi è proprio piaciuta e sono emersi anche dei trend che non mi aspettavo e di cui parleremo sulle nostre... estate. Assolutamente sì, saranno oggetto di racconto, abbiamo diversi numeri ancora che ci accompagneranno da qui al prossimo anno all'evento e quindi io concluderei dicendo questo, è stato un evento bellissimo, veramente molto bello, avremo ancora tantissime foto e tantissimi contenuti che pubblicheremo nelle prossime settimane per condividere quella che è stata la giornata di oggi. Sì, noi e anche i nostri media partner perché comunque non è che solo i media di Stratego parleranno dalla Prima World Conference, tutte le riviste diciamo principali del settore che sono state i nostri ospiti qui, quindi ringraziamo anche loro, ringraziamo loro, ringraziamo gli sponsor, gli sponsor assolutamente, ringraziamo naturalmente tutti i rappresentanti che ho elencato anche un po' all'inizio e anche lo staff di Stratego e la Cingh e lo staff che ha contribuito a rendere questo momento davvero bellissimo. Bello, quindi che dire, adesso chissà, faremo degli altri telegiornali prima? Potremmo fare degli altri telegiornali e non escludo che qualche anticipazione magari la raccogliamo anche da... Dai, dai, adesso non spoileranno troppo. No, assolutamente no. Vi auguriamo buon proseguimento sui nostri canali, con le nostre testate e... Sto giorni a presto. A presto, ciao ciao! Grazie.